Venerdì 7 giugno in piazza Sant'Antonio a Trieste, oltre 220 bambini delle scuole elementari di Italia, Slovenia, Austria, Ungheria, Croazia, Serbia, Bosnia, Zegovina, Montenegro e Macedonia tranno vita la finale dell'ottava edizione di Zogaria 2013 che per la prima volta si svolge a Trieste. La manifestazione, una sorta di giochi senza frontiere per bambini delle scuole primarie, è stata presentata nella serie aggiunta alla quale sono intervenuti l'assessore all'educazione Antonella Grimm, il presidente del Consiglio Comunale Istok Furlanic e Slavko Salezek, responsabile di Mediasport, la società che ha promosso l'evento. Sarà una mattinata di allegria e divertimento, ha detto da Grimm, un appuntamento che avrà la capacità attraverso il gioco e lo sport di unire tantissimi bambini provenienti da paesi diversi. La finale di Zogaria 2013 si terrà a partire alle 9 venerdì in piazza Sant'Antonio e avrà il suo momento culmine tra le 11 e le 12. Sarà la prima volta, infatti, che una finale si disputerà fuori dai confini sloveni. Di oltre 220 bambini nelle scuole finaliste, con alle seguita oltre 200 persone tra supporto e insegnanti, si cimenteranno in partite di calcio e scuole miste con vari giochi di abilità. Non mancheranno momenti poi di incontro, laboratori e quiz e anche gare tra gli stessi insegnanti. Prima della finale, le diverse fasi dell'edizione 2013, ha spiegato Slavko Salzenzik, si svolge in 9 paesi diversi con 34 appuntamenti che hanno visto la partecipazione di 8.500 bambini, oltre 10.000 persone.